Per l'uomo che vuole curare il minimo dettaglio anche a primavera ed estate, Nietzsche e lui, il negozio di tifosi azzurri, vi aspetta in via Giuseppe del Papa, in centro storico, ad Empoli, Nietzsche e lui. Per l'uomo che vuole curare la serie BWIN. Grazie a tutti. 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 famiglia. Questa è la serie B-Win. RDF 1027 in collaborazione con Radio Bruno presenta la radiocronaca delle partite dell'Empolicaccio. Solo sui 99.2 le gare in serie B degli Azzurri raccontate dalla redazione di Radio Bruno. Per l'uomo che vuole curare il minimo dettaglio anche a primavera e d'estate, Mitchell Louis, il negozio di tifosi azzurri, vi aspetta in via Giuseppe del Papa, in centro storico, ad Empoli, Mitchell Louis. Grazie a tutti.